ok allora volevo dire a tutti gli iscritti di gg show che dovete guardare tutti i suoi video anche per i non iscritti se vedete questo video lasciate un like un commento quello che volete e continuate a vedere i video di gg show perché è bello ci sono cose nuove ci sono novità ed è un palco c'è infatti è un show infatti il nome di gg show passo la parola mio fratello leonardo che è qui al mio fianco sono sono quello nel video di prima avete capito che il link non lo dico stavolta non lo dico stavolta non lo nomino neanche per quelli che non hai ascoltato ma voglio ripeterlo ma voglio ripeterlo ultimissima volta paoku gg show allora iscrivetevi perché questo questo canale è molto bello c'è questa persona c'è gg che fa molto ridere e allora dovete scrivere dovete potete scrivere quello che volete sotto ogni video e se voi scrivete a gg di invitarlo in in un posto voi potete lui verrà da voi e fine ecco qua sono vedete di prima sono già abbastanza famoso ciao 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 ciao